salve ragazzi allora come avete visto dalla miniatura anche in questo filmato vi parlo di tecnologia voi sapete che è in atto il cambiamento tra il vecchio digitale terrestre e il nuovo dvbt2 alcuni canali già si stanno spostando stanno migrando diciamo dal vecchio sistema al nuovo sistema e ci sono due modi diciamo per adattarsi a questo cambiamento il primo è quello di comprare un televisore nuovo e il secondo quello che penso la maggior parte di voi seguirà è quello di invece affiancare alla vecchia tv con il vecchio decoder magari già incorporato un piccolo ed economico decoder esterno dvbt2 in effetti questa secondo me la scelta più azzeccata diciamo vi consente di vedere ugualmente tutti i canali tv in alta definizione spendendo delle cifre veramente ridicole in questa puntata vi illustro la mia avventura fra virgolette dopo capirete perché guardando il filmato fino alla fine con un decoder digitale terrestre dvbt2 pieno zeppo di opzioni e di caratteristiche piuttosto interessanti che ho acquistato su aliexpress come sempre vi farò vedere di che cosa si tratta vi farò un cenno molto rapido sulle impostazioni perché in effetti di impostazioni ce ne sono veramente tante è impossibile illustrarvele tutte e alla fine del filmato vi dirò che cosa ne penso mi raccomando seguite il filmato fino alla fine buona visione a tutti e come sempre partiamo dalla confezione allora questo è l'oggetto in questione l'ho acquistato come vi ho detto su aliexpress prezzo veramente irrisorio si parla di 26 euro comprensivo di spedizione e iva non che tasse di sdoganamento per cui l'oggetto vi arriva e non dovete pagare nient'altro che vi arriva ovviamente dopo circa un mesetto questi sono i tempi diciamo caratteristici di aliexpress ho scelto questo modello coquit marca sconosciutissima t10h265 perché era uno fra quelli più gettonati un po per il prezzo un po per le caratteristiche mi sembravano abbastanza interessanti qui vediamo sulla sulla scatola c'è una raffigurazione del prodotto qualche schermatina ci sono alcuni cenni c'è appunto citato il fatto che sia anche dotato di chiavetta wifi si può vedere youtube si può registrare i programmi fare una specie di registrazione programmata come se fosse un diciamo video registratore e insomma e varie altre cose vediamo un attimino il resto della scatola va bene vari qr code coquit coquit e vedete qui ci sono le caratteristiche è un full dvbt e dvbt2 può funzionare in 4 terzi o 16 noni supporta il vecchio teletext io l'ho provato con vari canali e funziona diciamo benissimo ok ha il blocco chiaramente per i minori ha la possibilità di avere una programmazione di accensione e speggimento programmato cioè si può accendere e speggere automaticamente tramite le impostazioni che gli date voi e ha la funzione di timeshift ovvero sia quella funzione presente su quasi tutti i videoregistratori che praticamente vi permette di registrare il programma che state vedendo in modo tale anche se magari vi dovete assentare magari per 10 minuti o per una mezz'oretta potete poi diciamo fare una specie di rewind e vedere il programma dal momento in cui lo avevate lasciato c'è la possibilità di appunto di selezionare una serie di canali preferiti se non vogliamo scorrere tutta la lista dei canali si switcha si comuta automaticamente in pal ntsc ha una uscita audio video che io sinceramente non ho provato e ha una uscita hdmi che è quella con cui io di fatti l'ho utilizzato dunque allora andiamo a vedere un attimino che cosa c'è all'interno della scatola allora non ho diciamo il involucro interno della scatola in cui erano incastrati tutti i pezzi perché scioccamente l'ho buttato via ho mantenuto soltanto la scatola esterna avrei dovuto invece non gettarlo via e dopo vi spiego perché abbiamo come al solito un libretto di istruzioni abbastanza sintetico in lingua inglese lo vedremo dopo abbiamo un'antennina economicissima wifi ok che si connette tranquillamente al vostro router non è una una antenna diciamo per la connessione ad alta velocità in tipo n ma comunque funziona bene senza problemi si connette praticamente a tutti i router vediamo è fatta appunto pieghevole si può piegare e si può anche orientare ok per migliorare un po la ricezione del segnale abbiamo un alimentatorino veramente leggerino leggerino a 5 volt vediamo se mi riesce di mettervelo a fuoco vi faccio vedere vediamo un po se ce la faccio e non ce la posso fare non ce la posso fare ve lo dico io eccolo lì vedete è un alimentatore uscita 5 volt 1,1 o 1,5 ampere insomma diciamo e ma su questi 1,5 ampere ci ho qualche dubbio perché è veramente molto molto leggero comunque diciamo funziona c'è un uscita classica diciamo con un jack proprio di alimentazione e poi abbiamo un telecomando multifunzione telecomando multifunzione che appunto vi vorrei far vedere vediamo anche questo qui se me lo mette a fuoco correttamente perché è un telecomandino leggerissimo per carità veramente di plastichina sottilissima e leggerissima da non fare assolutamente cadere in terra però che ha una serie di pulsanti abbastanza utili la sezione più curiosa è questa qui in alto vedete c'è un doppio pulsante d'accensione pulsante rosso serve per accendere il dispositivo digitale terrestre e vi faccio vedere tra un attimo questo pulsante bianco invece serve per accendere la tv questo è un pulsante che si programma bisogna andare sul sito della coquit per capire come diciamo come si fa ok è un è un diciamo è un piccolo è una piccola sezione programmabile che si programma con il telecomando originale della vostra tv praticamente voi potete programmare il tasto di accensione speggimento della tv il volume più volume meno la commutazione fra av e tv del vostro diciamo vecchio televisore e poi quest'altra chiavetta 7 io non ho capito ma diciamo questa serve appunto per dargli l'input e fargli capire è in fase di programmazione e per memorizzare la programmazione del telecomando io l'ho provato con un vecchio televisore lg con un vecchio telecomando lg e funziona tutto regolarmente qui c'è una serie di diciamo di tasti colorati che a seconda del contesto in cui vengono premuti assumono un certo significato questo è il tasto del teletext questo è il tasto che vi dà l'accesso diretto a youtube poi ci sono altri due tasti c'è il classico tasto delle pg c'è il classico tasto delle info in cui si vedano appunto le informazioni sull'osd del canale che state guardando c'è questa specie di pad per salire e scendere di un canale per aumentare o diminuire il volume il volume si regola dalla vostra tv però in più lui ha una specie di piccolo amplificatore interno per cui lo potete regolare aggiustare finemente anche utilizzando questi due tastini più e meno poi c'è il classico tasto del menu c'è il tasto dell'exit per uscire dalle impostazioni del menu c'è un tasto che richiama i canali favoriti e c'è un tasto che secondo me è molto utile si trova su molti telecomandi degli ultimi diciamo digitali terrestri di ultima generazione è il recall cioè praticamente premendo questo tasto vi viene fuori sempre in osd a schermo una specie di tendina e vi fa vedere gli ultimi canali che avete selezionato proseguiamo ancora un attimo sulle funzioni del telecomando qui vediamo appunto vi ho detto c'è una sezione per i favoriti una sezione per richiamare gli ultimi canali che avete selezionato questo tasto a bilanciere se lo premete serve per registrare al volo quello che state guardando questo tasto di sotto invece serve per commutare istantaneamente da canali video a canali radio voi sapete che sul digitale terrestre è possibile ascoltare anche con una ottima qualità audio anche diversi canali radio ok questo tasto serve per iniziare la riproduzione del time shift cioè praticamente per andare a rifescare dalla memoria del digitale terrestre il canale che stavate vedendo dal momento in cui è partita diciamo la visualizzazione del canale e questa parte di sotto invece serve per bloccare la funzione di registrazione questi sono i soliti classici tasti diciamo che vi servono per selezionare i canali questo è il tasto per diciamo silenziare istantaneamente l'audio queste sono tutte le funzioni presenti sul telecomando in realtà poi vi ho detto a seconda del contesto in cui vi trovate sul menu a schermo voi vedrete ci sono dei richiami anche a questi tasti colorati adesso passiamo a vedere com'è l'oggetto il decoder vero e proprio eccolo qui il famigelato decoder digitale terrestre come vedete le dimensioni sono veramente minime vi faccio vedere in rapporto al telecomando è addirittura più piccolo diciamo del telecomando stesso per cui è un oggettino che si mette veramente dappertutto e comunque vi dico che in commercio anche senza bisogno di andare su aliexpress anche se andate su amazon ci sono molti decoder di fascia economica che hanno queste stesse dimensioni addirittura addirittura da da come si vedono i menu interni di configurazione secondo me alla fine la scheda interna con i processori interni alla fine è sempre la stessa perché i menu sono uguali praticamente per tutti quelli di fascia economica come vedete abbiamo un frontalino con una serie di inutili pulsanti a meno che non vi si rompa il telecomando o non vi si scarichino le file c'è un pulsante accensione spengimento un pulsante di menu e poi un pulsante per andare al canale inferiore o al canale superiore qua abbiamo un display adesso non lo vedete perché è spento con led giallo ok di cui si può anche regolare la luminosità in fase di stand by si può decidere di tenerlo su tre livelli di luminosità diversi qui davanti troviamo una presa usb 2 ok sul fianco niente sull'altro fianco niente di sotto niente addirittura non ci hanno nemmeno messo i piedini di gomma antiscivolo l'hanno lasciati proprio così ok sul retro vediamo anche qui tutto molto semplice ingresso dell'antenna da notare una cosa che non è sempre presente in tutti i decoder di fascia bassa abbiamo anche l'uscita questa può essere utile ci può essere un altro dispositivo che vogliamo collegare alla presa dell'antenna e qui abbiamo anche l'uscita mentre invece in molti decoder di fascia economica c'è soltanto l'ingresso per cui questa è un'uscita diciamo collegata direttamente all'ingresso troviamo un'altra presa usb 2 la presa hdmi un'uscita audio video tra l'altro non mi non vi ho fatto vedere perché non mi ricordo più dove l'ho messo in dotazione nella confezione c'è anche un cavetto di collegamento fra jack audio video e invece i soliti pin jack con i tre colori mi sembra rosso bianco e giallo da collegare se avete una televisione con l'ingresso audio video ok e questo è lo spinotto di collegamento del diciamo dell'alimentazione bene questo è il manuale in lingua inglese da cui sinceramente non si trae quasi nessuna informazione per capire come funziona il digitale terrestre per capire come si fa a impostarlo bisogna andare sul sito della cockpit oppure consultare delle istruzioni che ci sono anche sul sito di aliexpress e da lì diciamo un po intuitivamente si riesce a capire ok le varie diciamo impostazioni di questo di questo digitale terrestre diciamo come tutti i digitali terrestri le funzioni sono vedete qui ci sono gli indirizzi del sito della cockpit abbiamo un appunto vari social ok per cui diciamo ci possiamo informare ok sulle varie caratteristiche diciamo e come tutti i digitali terrestri le impostazioni in effetti sono parecchie non mi pareva proprio il caso di mettermi a fare un video un video per farvi vedere proprio a schermo tutte le varie impostazioni anche perché in questo momento io questo digitale terrestre qui non l'ho collegato alla mia tv l'ho tenuto collegato per circa un mesetto grosso modo e poi dopo l'ho tolto adesso vi spiegherò perché dunque c'è da dire una cosa questa azienda non è una delle solite aziende cinesi che fa un prodotto lo butta lì e poi dopo lo abbandona nel tempo che io l'ho tenuto collegato alla tv io ho ricevuto proprio utilizzando diciamo la funzionalità wifi cioè l'antennina wifi ho ricevuto bene tre aggiornamenti del firmware in cui alcune delle funzioni che all'inizio appena acceso non andavano correttamente hanno poi incominciato a funzionare praticamente all'inizio appena comprato ho notato e diciamo la ricerca dei canali la visualizzazione dei canali era corretta ma il per esempio il il la funzionalità di registrazione dei canali non funzionava tutte le volte si premeva il tasto rec o che si programmava la registrazione di un canale a una certa ora il digitale terrestre andava in blocco si bloccava non funzionava più e dopo circa due o tre minuti si resettava e si riaccendeva si spengeva e si riaccendeva da solo la stessa cosa per il time shift anche anche il time shift pur avendolo attivato appunto da menu a schermo ma anche quello non funzionava correttamente tutte le volte anche lì che si andava a rivedere il time shift o si vedeva che non era stato registrato nulla oppure andava direttamente in blocco anche qui c'era un auto reset da notare una cosa sia per il time shift che per la registrazione programmata o al volo dei canali non si può fare affidamento su questi oggetti su tutti e non solo su questo modello qui ma anche su quelli economici che si trovano diciamo anche su amazon non basta la memoria interna del digitale terrestre ci vuole una chiavetta usb ecco perché su questo modello ci sono due prese usb una presa serve per attaccarci l'antennina wifi che serve eventualmente o per andare su youtube o per ricevere gli aggiornamenti ok e l'altra presa usb serve per attaccarci una normalissima chiavetta usb 2 che può essere da 8 giga 16 giga 32 giga ovviamente se la mettete da 32 ci potete registrare di più se la mettete piccolina ci potete registrare di meno ecco tutto lì però anche quella funzione lì di registrazione su chiavetta non funzionava cioè praticamente non venivano registrati i file tutto lì mentre invece poi dopo con gli altri successivi due aggiornamenti ha cominciato a funzionare tutto correttamente tutto correttamente ci sono altre funzioni particolari che io qui non vi sto nemmeno a spiegare perché sinceramente non le ho provate ma pare che questo dispositivo si possa connettere al vostro smartphone tramite un'applicazione si chiama mi cast questa è una caratteristica che non ho trovato su altri digitali terrestri economici alla funzione mi cast e praticamente voi con il vostro smartphone trasmettete in rete su un canale apposta con un account vostro privato un video che avete sul vostro smartphone e lui va sullo stesso canale a riprendere a riscaricare dalla rete il video che voi avete che state trasmettendo e ve lo fa rivedere sulla tv diciamo è una specie di visualizzazione indiretta di quello che appunto volete far vedere col vostro smartphone per esempio se avete delle foto o un filmato carino da far vedere ai vostri amici voi lo trasferite su questo portale mi cast e lui dal portale mi cast lo va a riprendere e ve lo fa vedere sulla tv questa è una funzione sinceramente che non ho provato ok ho notato soltanto che per quanto riguarda le registrazioni per evitare problemi e blocchi è bene selezionare una risoluzione abbastanza ridotta cioè assolutamente non il full hd ma stare sotto sui 720 pixel o addirittura meno per quanto riguarda youtube e questo è un problema che ho riscontrato anche su altri digitali terrestri economici beh non sempre i canali youtube si vedano io ci ho provato anche con questo canale note di svapo per esempio il mio canale note di svapo nonostante fosse collegato correttamente diciamo alla rete mi dava errori di rete ovviamente una delle prime cose che voi dovete fare non solo con questo ma un po con tutti diciamo questi dispositivi digitali terrestri economici anche su amazon ce ne sono da 30 40 euro che costano molto poco se hanno in dotazione la chiavetta wifi una fra le prime cose che dovete fare è appunto configurare il wifi perché è proprio grazie alla connessione wifi che voi potrete ricevere gli aggiornamenti firmware molto importanti per il per il digitale e vi potete eventualmente connettere a youtube vediamo un po il sito coquit perché mi sembra diciamo fatto abbastanza benino direi come vedete c'è la possibilità di registrarsi questo è appunto il t10 coquit t10 è appunto l'oggetto che vi sto illustrando qui ci sono tutte le varie tutte le varie istruzioni ok e praticamente abbiamo anche una serie di firmware che però non è necessario scaricare da qui perché in effetti si scaricano automaticamente è lo stesso decoder digitale che vi segnala la presenza di firmware ok per cui poi ci sono tutti una serie anche di link a youtube c'è un indirizzo di un canale facebook per cui diciamo che c'è la possibilità diciamo di districarsi fra le varie impostazioni ok nella schermata qui vediamo oltre il diciamo il digitale terrestre vediamo anche vedete questa è la schermata appunto che vi dà la versione diciamo vostra attuale voi gli dite appunto di verificare il firmware e dopo di che vi viene appunto la vedete questa era la vecchia versione mentre invece questa è la nuova versione ma comunque diciamo che come vi ho già detto io non credevo ma invece lo stanno facendo continui aggiornamenti ora voi vi chiederete perché non vi faccio vedere in funzione questo digitale terrestre adesso ve lo spiego allora ritorniamo al primo piano perché non vi faccio vedere questo digitale terrestre perché l'ho tutto staccare allora dunque voi se insomma se mi conoscete se vedete il mio canale sapete io non mi sbilancio mai né nel consigliare l'acquisto di un prodotto né nello sconsigliarlo vi dico soltanto che cosa ne penso in questo caso purtroppo mi devo sbilanciare e dopo avervi fatto vedere tutto questo firmato video non compratelo assolutamente non lo comprate mi viene da ridere ma purtroppo io ci sono rimasto fregato allora che cosa è successo praticamente dopo averlo utilizzato per circa una ventina di giorni quasi un mesetto con qualche intoppo con qualche incertezza con qualche frizzatura insomma ma comunque diciamo che con gli ultimi aggiornamenti andava bene tutto a tratto questo aggeggio ha smesso di funzionare nel senso che tutte le volte che l'accendevo appena gli arrivava il segnale del digitale terrestre di un qualunque canale lui andava in blocco cioè si frizzava l'immagine e dopo quanto dopo un tre minuti si resettava e si riaccendeva e da lì in poi funzionava come se gli arrivasse un segnale troppo forte non lo so nemmeno io ho controllato le importazioni perché c'è anche l'importazione per disattivare l'amplificatore d'antenna perché voi sapete che tutte le antenne sul tetto hanno un amplificatore e dal digitale terrestre è possibile attivare un segnale un soldi di quanti volt per aumentare l'amplificazione l'ho disattivato ok come di fatti c'è scritto di fare diciamo è un'opzione raramente si attiva perché può causare dei danni al digitale terrestre ma nonostante tutto questo aggeggio insomma diciamo non tutte le volte ma su dieci volte perlomeno un cinque volte mi si frizzava improvvisamente non solo questo problema del blocco diciamo del canale come se io avessi messo il canale in pausa praticamente non riuscivo più nemmeno a spengerlo cioè rimaneva tutto completamente impallato o bloccato mi succedeva anche anche durante la visione di un canale io ero diciamo io me lo sono comprato per attaccarlo sulla televisione piccolina e ciò qui dietro le spalle per guardare la televisione dal letto quando sono a letto mi metto lì la sera mi guardo la televisione e poi dopo spengo tutto ok delle volte mi è successo dopo circa una ventina di giorni 30 giorni di funzionamento che questo aggeggio praticamente mi andava in blocco mentre stavo guardando una trasmissione un film una cosa che mi interessava tutto un tratto senza nessuna ragione mi si bloccava e praticamente l'unico modo per vedere era prendere spengerlo e riaccenderlo con la conseguenza e mi perdevo metà del programma e stavo guardando questa cosa mi ha fatto un po andare in bestia ecco perché vi dicono compratelo e ne ho dovuto comprare un altro su amazon che costa tre euro in più ma che funziona perfettamente non c'ha tutte le opzioni che c'ha questo qui ma però questo funziona perfettamente purtroppo il reso aliexpress non l'ho potuto fare perché sono stato si sciocco da buttare via tutto quello era l'imballaggio interno della confezione e sono più che sicuro in queste condizioni aliexpress il rimborso non me lo riconosce per cui diciamo che ci ho perso 26 euro per carità è una cifra irrisoria ma insomma un po scoccia ora ciò non toglie che io fra un mese o due ricollegherò questo decoder all'antenna e vedrò se è stato rilasciato un altro aggiornamento del firmware perché questo difetto a me mi pare più che altro dovuto al firmware più che al processore stesso perché se il processore non funziona si deve praticamente non si dovrebbe vedere assolutamente nulla ok mentre invece secondo me c'è qualche problema a livello di firmware per cui non è escluso che magari fra uno due aggiornamenti che questa azienda pare che li faccia continuamente il firmware venga messo a punto e tutto ricominci a funzionare direttamente comunque video sinceramente non lo comprate se dovete comprare un digitale terrestre economico compratelo o direttamente in un negozio ok oppure anche su amazon perché su amazon voi sapete benissimo e è vero e lo pagate di più però però se c'è qualcosa e non va bene anche a distanza di un po di tempo loro il rimborso ve lo fanno tranquillamente voglio rimandare indietro il pezzo e tutto bene ragazzi io vi ho detto tutto il che vi potevo dire di questo digitale terrestre mi sarebbe piaciuto farvelo vedere in funzione ma sinceramente adesso ci ho attaccato quell'altro di amazon che probabilmente vi farò vedere in un'altra specie di recensione molto sì empirica molto rapida ma questo qui appunto l'ho dovuto staccare perché praticamente non funzionava più correttamente ok mi auguro che il filmato perlomeno vi abbia fatto sorridere e vi do appuntamento al prossimo filmato tecnologico un saluto a tutti ciao